In un complesso industriale di Gattinara, scritti nel marmo i nomi di coloro che qui lavorarono e che caddero perché la patria vivesse. Siamo in una delle maggiori fabbriche italiane di impianti e accessori igienici in ceramica che oggi festeggia i 50 anni di attività. È intervenuto il ministro Romita che sottolinea il mirabile cammino percorso dal lavoro italiano nel dopoguerra. Ed ora, in un clima familiarmente cordiale, agli operai anziani vengono consegnati diplomi e medaglie. Erano dei ragazzi quando furono assunti e la vita della loro fabbrica l'hanno seguita giorno per giorno nelle vicende liete e nelle ore più incerte. Con bronzo, stima e affetto, confezionato il dono per il presidente. Ed ora, tutti a tavola, nel clima natalizio. Naturalmente, panettoni per i più piccini.